ben trovati tutorial brevissimo brevissimo vi faccio vedere come caricare punti maglia sui ferri senza la godina andiamo a creare una catenella pari ai punti che ci servono per il nostro lavoro quindi avvio il mio nodino e lavoro tante catenelle per quanti punti ho necessità di lavorare facciamo conto che io abbia raggiunto i punti che mi servono e andiamo a caricare come per il giro di andata nell'uncinetto tunisino entriamo in ogni singola catenella ed estraiamo la nostra asolina potete fare questa operazione con un uncinetto più grande dei ferri che poi vi serviranno per la vostra lavorazione una volta che abbiamo caricato tutti i punti li andiamo a trasferire sul nostro ferro in questa volta e partiamo con la nostra lavorazione qualora non riusciate a caricare tutti i punti sull'uncinetto perché sono troppi mano mano che estraete le asoline dalla catenella li potete benissimo trasferire sul ferro usando un ferro circolare o i ferri dritti che poi vi serviranno per la vostra lavorazione io ho usato questo a doppia punta per comodità di inquadratura vi ringrazio spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento e che io vi sia stata utile se non l'avete fatto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video